Allora, rieccoci Maurizio Chiovato con la nostra indonesia, eravamo già sott'acqua. Dei posti meravigliosi, anche se preferisco le Americhe, Messico e Colombia. Quest'ultima c'è un'isoletta che si chiama Isola di Santa Catalina ed è a largo. C'è l'isola che non c'è, meraviglia della natura, ci scrive un telespettatore. Lo metteremo in lista da visitare, non la conosco, in America ho fatto anche lì un po' di immersioni, ho fatto il Brasile, Fernando de Noroa, poi abbiamo fatto il Messico, poi abbiamo fatto i Caraibi, Cuba, ma questa Santa Catalina non la conosco, ma grazie del consiglio. Infatti assolutamente, qua siamo tornati con le immagini, sempre subacque perché c'è stata l'immersione. I Nudi Branco, cioè ricordiamoci l'Indonesia, oltre a tutto, perché c'è di tutto, pesci grandi, pesci piccoli e poi macro riprese. I Nudi Branchi sono delle lumachine di mare, non hanno problemi a proteggersi. Un messaggio che dà la natura sono i colori. I Nudi Branchi perché sono così colorati? Perché danno avviso all'eventuale aggressore che sono tossici, sono velenosi. Per cui i vari pesci, prima o poi, che magari vengono invogliati ad attaccare, lo rigurgitano immediatamente perché restano orticati sulla bocca. E quindi questo è il Nudi Branco, le lumachine, eccolo qui. Poi il Nudi Branco, una volta aveva la conchiglia, adesso non ce l'ha più. E ha un peduncolo posteriore dove c'era praticamente l'attacco della conchiglia. Questo è uno scarpenide, ne abbiamo di tantissimi tipi e cambiano le colorazioni in conformità dove vivono. Cioè loro si mimetizzano, ecco, questo qui ha anche le pinne laterali aperte. Guarda che è bellissimo. Guarda, sì, lo vediamo proprio bene qui. E anche loro tendono a guato. Sarà circa 20 centimetri, 30 centimetri. Ah, è bello grande. No, è grandino, è grandino. Però vedete come cambiano i colori. In conformità dove vivono, loro prendono i colori dell'ambiente dove sono. E stanno lì e fanno una vita praticamente attorno allo stesso ceppo di corallo. Qui abbiamo i pericoli. Io ho più paura di questi organismi qua che degli squali. Questo qui è il polpo degli anelli. Questo è velenoso. Ma dai, scherzi. Questo è velenoso. Non hai visto questo polpo? Non ce l'hai mai fatto vedere? È piccolo. Non è che sia molto sviluppato, assolutamente. Non si vede tanto in natura. Perché è velenoso? Cosa può fare? Morde. Morde a un morso velenoso. Cioè il polpo degli anelli e poi vediamo anche il polpo degli anelli. Ma per curiosità, tu lo conoscevi già, quindi sapevi? Ci avevano detto che potevamo vederlo. Sì. Ah. Ecco. Questa qui invece è una medusa in questo caso che si è caduta sul fondo e sta praticamente muovendo, ma è ferma praticamente, è caduta lì e si è bloccata. Una medusa. Una medusa. Sì, è a testa in giù. È a testa in giù. Anche quelle pericolosette, non sono delle… No, orticano, è un po' orticano. Questi invece sono i mandari in fishe. I mandari in fishe sono difficili da vedere perché vengono fuori al tramonto. Si spaventano immediatamente con i fari. Qui ho lasciato i fari accesi e alla fine sono tornati fuori a vedere. Sono bellissimi. I mandari in fishe si riescono molto più facilmente a fotografare che a riprendere perché la fotografia blocca l'attimo, mentre la ripresa bisogna dare un po' di continuità. Venendo fuori quei pochi attimi bisogna essere pronti a riprenderli e tutto il resto è più difficile. Però qui sono stato contento perché si vede bene come sono fatti. E sono veramente, ma veramente belli i mandarini. Qui di solito passiamo ai nudi branco. Vediamo bene. Hanno dimensioni diverse? Sì, questo più che un nudi branco, questa qui dovrebbe essere una ballerina spagnola che in questo caso sta solo muovendosi in terrestre, perché la ballerina spagnola sale e balla esattamente. Qui è la tridacna. La tridacna è sempre su una conchiglia, un mollusco, che però l'interno, il mollusco, cresce di più della conchiglia, per cui si arriva a un punto che la conchiglia non può più chiudersi perché è un mollusco troppo grande e resta sempre aperta, anche se viene attaccata. E infatti è quello il pericolo degli attacchi. Quindi la fisiologica fine naturale. Esatto. Qui abbiamo due squaletti pinna bianca. Pericolosi, chiedo. No, pericolosi, bisogna stare attenti a non bloccargli l'uscita, perché loro sono dentro su delle tane, su dei buchi. Non bisogna assolutamente bloccarli, perché sennò a quel punto mordono. Questa è una rinomurena, però assolutamente non è pericolosa. Marrone è difficile vederla, di solito sono azzurre. Comunque sono, ecco lì, proprio mangia pescetti, planton, mangia qualcosa, roba. Questi qua sono delle erbe, chiamiamole, delle alghe, orticanti. Queste bisogna stare attenti, perché quando purtroppo si resta... Ve l'hanno detto questo? Eh no, lo so, sulla pelle. Caspita. Perché avevo anche i guanti, sulla mano sinistra ho un guanto per tenermi fermo, e nell'altra mano l'ho urtato, e praticamente resta una ferita, una scottatura, fino a che si finiscono le immersioni, perché andando sempre in acqua non si riesce a guarire. Questo cos'è? Una seppia. Ma dai, caspita. Eccola qua, è una seppia abbastanza grande. Eh sì, direi. Sì, in questo caso, eccola qua. E qui vediamo... Cioè quanto sarà stato come dimesso? Serebbe sui due chili, proprio... No, no, è grande, è grande. Bolitans, Pterois, che è sempre la famiglia degli scarpenni, di questo ha gli aculei dorsali, che danno abbastanza fastidio, possono fare male in maniera importante. Ricordiamoci che i veleni degli organi, dei pesci acquatici, pesci acquatici, bello, sono termolabili, per cui se uno resta appunto da un pesce, anche se capita da noi subito, mettere acqua praticamente molto calda... Non sai che non avrei mai pensato? Sì, acqua molto calda e si elimina questo dolore, sì. Ah, il dolore va via proprio? Il dolore va proprio via, ma proprio... Bisogna però soffrire un attimo, bisogna veramente acqua molto calda. Qui vediamo un granchietto, qui siamo sempre nella macrofotografia, che è in un punto dove ci sono molte foglioline uguali. Difatti, se lui si mettesse in mezzo dove sono queste foglioline, proprio non lo si distinguerebbe. E lui resta e si muove anche con la corrente, li vediamo un po' dietro. Poi tutti questi microorganismi, eccole qui un altro, proprio questi qui sono veramente... Bellissimi sono. Ma sono veramente belli. Cioè, questo è difficile vederli a occhio nudo quando si è in acqua. Li vedo meglio dopo la ripresa, ecco, quando torno su e guardo quello che ho ripreso, riesco a vederli molto meglio. Qui bisognerebbe avere una lente di ingrandimento e guardarli con la lente sott'acqua, ecco. E qui vediamo com'è attaccato. Guarda, questo è piccolissimo comunque? Piccolissimo, sì. È un centimetro e mezzo, un centimetro proprio piccolissimo, che lui è attaccato a questa alcionaria. L'alcionaria, altro, non è che un contenitore d'acqua, è una pelle piena d'acqua. Se noi dovessimo raccogliere un'alcionaria, portiamo su proprio solo dell'acqua marina, che come si svuota non c'è più niente. Ecco che lui ha recuperato il punto e lui dentro questa alcionaria passa inosservato. Ma è un rosso proprio così acceso? Rosso acceso. Attenzione però, noi lo vediamo adesso rosso acceso, perché ho i fari, perché superati i nove metri di profondità, i colori si attenuano completamente tutti. L'ultimo colore che scompare è il giallo, ma dopo i colori a 30 metri, ad esempio, se capita, penso che a tanti può essere successo, che ci si taglia un dito, si fa una ferita, vediamo il sangue sott'acqua, lo vediamo completamente marron, proprio quello... Quindi è fondamentale l'illuminazione. L'illuminazione è fondamentale. Qui c'è un altro granchio sulla... Ma gli altri cosa hanno? Un faro? Il flash delle macchine fotografiche, oppure le pile. Io invece ho i fari per la ripresa, a quel punto lì, che poi il faro, ad esempio, non viene mai usato quando si sta in acqua libera. Se viene avanti una manta, viene avanti uno squalo, si mette un filtro davanti all'obiettivo, ma non il faro, perché il faro ha una portata luminosa di due metri, arriva a tre metri, un faro potentissimo, ma proprio non... Però questo ti consente, ora che bello, questo di vedere meglio... Sì, pesce palla, esattamente. Quando si va vicino, si entra in grotte, allora il faro è indispensabile. Ecco qui è Dario, che mi fa da soggetto, in questo buco. Ecco qui vediamo un altro nudibranco, perché i nudibranchi ce ne sono di 300 tipi, tantissimi, proprio molto caratteristici, proprio veramente belli. Però, ripeto, bisogna fare un bell'occhio. Ecco, guardiamo, c'è il pollice che tiene l'alga, vediamo quanto grande è, e vediamo anche il peduncolo, che vi dicevo prima, dove praticamente era attaccata la conchiglia. Poi, avendo perso la conchiglia, non aveva bisogno di difendersi. Qui stiamo andando in notturna. Le notturne sono sempre bellissime, a mio giudizio. Bisogna vincersi un attimo, perché c'è la stanchezza della giornata. Ecco, questo squalo qui, è uno squalo bellissimo, è endemico, lo troviamo solo qui in Indonesia. Questo è uno squalo che cammina. Aspetta. Proprio, lo vediamo. Lui sta sempre sul fondo, guardiamo le pine, le usa proprio come zampine, e lui si muove nel fondo, così. Questo è un po' aggressivetto? No, no, no. No, no, assolutamente, tranquillo. No, invece poi adesso, mi pare che sia la prossima scena, quella della morena. È piccolo comunque? È piccolo, è piccolo, sì, sì, è piccolo. Sì, non sono grandi. Qui arriva al massimo a 50 centimetri, proprio non è grande. Ecco, questa morena qui sfrutta le luci per catturare i pesci. E adesso vedremo, adesso qui ne ha inghiottito uno, sono arrivato l'attimo dopo che l'aveva preso in bocca, e dopo loro sono rimasto lì a vedere, dico, e infatti, ecco lei che sta mangiando il pesce. Eccola. Adesso vediamo che lei butta fuori un po' di squame e va alla caccia di altri soggetti. Quindi è uscita dal suo? È uscita dalla Tana. E qui ha catturato un altro pesce. Però a questo punto qui si è sentita infastidita dai miei fari. Pur, diciamo, sfruttando le catture per le luci che io emettevo, così si bloccavano i pesci, si è infastidita e se le è prese un po' con me, proprio adesso mi viene contro. Ah, addirittura attacca. Sì, 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 mi è venuta proprio contro, mi è attaccata. Eccola qui. E di fatto ho dovuto allontanarmi, eccola che mi sta proprio venendo addosso, mi sono allontanata. Non insiste comunque. Era decisa a venire via. Questo è stato tu e hai girato intanto. Esattamente. Ecco, anche questo qui lo chiamano impropriamente polpo degli anelli, anche questo, non è un polpo, però anche questo qui ha un morso tossico. Questa è una sette. È tipo calamaro. È un tipo calamaro. Anche questo qui è pericoloso. Ma anche per l'uomo? Anche per l'uomo. perché se il serpente, che è il veleno massimo che c'è in natura, il serpente marino, non può essere pericoloso per noi perché il dente velenifero ce l'ha molto arretrato nel palato, non ha la mandibola snodata, per cui può prenderci le punta delle dita, per dire il mignolo, ecco, ma non ci può, è difficile che riesca a morderci. Questi organismi qua, invece, sono col tentacolo, possono catturare bene, tener fermo e hanno la bocca al centro dei tentacoli, possono morderci. Hai capito. Qui vediamo tutte le barriere dove si va, praticamente, che si trovano questi pescetti. Ecco, ah, il pesce fantasma, questo è bellissimo. E qui però l'abbiamo un mattino spaventato, è uscito dal suo punto dove era mimetizzato e proprio è un attimo fuori, poi lui rientra. Eccolo qua. Questo è molto bello. Eh sì, sì, veramente, però non li ho visti in altre parti, in altri filmati che hai fatto in altre parti del mondo, si ritrovano? Oppure qui c'è particolarmente? Qui c'è particolarmente presenza di questo, sì, qui ce n'è veramente tanta in questo caso. Allora, adesso abbiamo la pubblicità, quindi interrompiamo, questo invece cos'è? È un crinoide. Che sarebbe? Il serbo è una stella marina, a partire dalla famiglia delle stelle marine, qui è Gigi, che altro non fa che farsi la parrucca appoggiandosi il crinoide sulla testa, è innocua, è assolutamente. Il crinoide purtroppo è un po' vittima dei subacquei perché con queste ali che muove, queste punte qui, si attacca alla muta e noi nuotando li strappiamo abbastanza. devono stare anche attenti, poverino. Eh sì. Allora, pubblicità pochi secondi, ritorniamo poi sempre a compiere il nostro viaggio, tra poco.